Tiroidite di Hashimoto e gonfiore addominale. Sono tante le pazienti che vengono in studio con problematiche di gonfiore addominale e che presentano la tiroidite di Hashimoto, ma dobbiamo ricordare innanzitutto che quando parliamo di tiroidite di Hashimoto parliamo di una patologia autoimmune e le patologie autoimmune hanno sempre a che fare con il nostro intestino. In questo caso quando nel nostro intestino si viene a creare un processo di disbiosi si ha una iperproduzione di gas, quindi quando soprattutto si creano delle disbiosi fermentative, quindi si ha produzione di gas, questi gas ovviamente gonfiano la nostra pancia. E quindi dobbiamo mettere a posto tutto il nostro ecosistema intestinale, perché vi ricordo che l'innesco poi delle patologie autoimmune avviene sempre a livello intestinale, dove per il 70% vi ricordo esserci il nostro sistema immunitario, quindi la natura ha posto proprio il sistema immunitario proprio lì, su una superficie molto estesa proprio perché è il punto di contatto più grande che abbiamo con il mondo esterno. E quindi è facile che ovviamente questo nostro sistema immunitario che sta lì per il 70% viene disregolato e quindi ovviamente poi va contro una ghiandola propria del proprio corpo che è la tiroide. Quindi bisogna agire in modo capillare sulla disbiosi e soprattutto sulla permeabilità, ripristinando la permeabilità intestinale e quindi bisogna cercare di agire sia con una dieta appropriata e ancora oggi sento dire che non esistono diete per la tiroide, non esistono diete per la tiroidite, cosa assolutamente non vera, perché ovviamente si può fare tanto con l'alimentazione, bisognerebbe un attimino crederci un po' di più su questo, perché ovviamente questo vale per tutte le altre patologie, perché se senti dire, sento spesso dire che non esistono diete per patologia, a questo punto rimango un po' basito quando sento queste affermazioni da parte anche di specialisti molto quotati e quindi però non è solamente la dieta che bisogna curare, ma tutto lo stile di vita della persona, il suo lato emozionale, il sonno, la masticazione, quindi ecco perché molto spesso i problemi digestivi che si presentano derivano anche da una non buona masticazione, dal movimento, spesso si è sedentare e quindi si alimenta il processo infiammatorio, quindi dobbiamo cercare di veramente di agire in maniera capillare, solo in questo modo possiamo gestire le problematiche, quindi agendo, quindi come dico sempre, a monte e non a vale. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace e poi continuiamo a seguire sui vari social Facebook, Instagram, YouTube. Ciao!